Si rinnova la tradizione a Kifli con la Festa della Repubblica, quest'anno festeggiata in leggero ritardo per impegni d'agenda. Più generazioni che si confrontano, più ceti sociali che si confrontano, il mondo dell'associazionismo, l'italianità. Credo che ci fa ben sperare che questo modo di essere sociali abbia ancora un futuro. Ascoltare le esigenze della popolazione è l'elemento vero della funzione che poi devi svolgere. Perché tu puoi scrivere, pensare, ipotizzare qualsiasi legge o intervento normativo, ma quando ascolti le questioni delle difficoltà quotidiane, non i macrosistemi, ma le difficoltà quotidiane, allora ti rendi conto che c'è ancora molto molto da fare. Un enorme sforzo organizzativo da parte del Circolo Acli, capitanato da Giannino D'Angelo, che ha permesso alla comunità di riunirsi nuovamente e vivere insieme una giornata all'insegna del tricolore. Noi in tutte le comunità, sia in Italia che all'estero, oggi noi siamo presenti in 22 paesi, assumiamo questo ruolo, cioè quello di mettere insieme le comunità locali con i ruoli, con le istituzioni. E naturalmente l'istituzione significa politica, significa altre associazioni, per provare a costruire dei ponti. Questo è, partendo dal fatto che ci sono dei diritti che devono essere esigibili e quindi questo è il tema che riguarda ad esempio le comunità all'estero e in Europa, quindi la qualità dei servizi consolari, la qualità, come dire, che quei diritti diventino pane, previdenziali e tutto il resto. Quindi questo è il nostro ruolo oggi e insomma portiamo avanti con piacere. Un'occasione è questa anche per fare in modo che le persone entrino in contatto con i rappresentanti degli italiani all'estero. Presenti nel panel illustri i nomi tra cui l'onorevole Tony Ricciardi, Matteo Bracciali, presidente Acli, il console Rocco Cristiano Mente, il corrispondente consolare Giuseppe Termine, la rappresentante della Camera di Commercio Giulia Sirigu, il circolo Acli di York e Bradford con rispettivamente Silvana Poloni e Daniela Fauk, la Dante Alighieri di Lofboro con il presidente Gianluca Fanti e l'avvocato Gianluigi Cassandra, tra l'altro questi supporter dell'evento insieme allo studio del Vigna. Siamo felici di essere presenti qua a Kifli perché chiaramente noi come sede del nord del Regno Unito lavoriamo con tutti i territori che vanno dall'ovest all'est e quindi è importante dare anche importanza e essere presenti a livello dei territori perché i business e le imprese italiane presenti nel nord del Regno Unito sono chiaramente presenti anche in questi territori un po' più periferici rispetto alle grandi città. Ritengo che sia molto importante aiutare queste comunità, qui c'è una comunità italiana importante, forte, radicata nel territorio, qua gli italiani sono arrivati oltre 100 anni fa e c'è chi li guida e dare una mano per quel che si può a chi li guida nel nostro caso a Giannino D'Angelo vuol dire non solo aiutare Giannino, non solo aiutare le Acli ma aiutare tutta la comunità presente in questa zona. È molto importante perché è un ponte tra l'Italia e l'Inghilterra, unisce gli italiani che sono qui in Inghilterra e non solo italiani nati in Italia ma anche di seconda generazione. Quindi io mi sento come studio, noi aiutiamo molto gli italiani che sono residenti qui in Inghilterra e mi sento di supportare anche l'Acli per questo solito motivo. Musica, prodotti italiani e ricordi a fare da cornice un evento che si ripeterà anche il prossimo anno. Segui Complitaly sulla tua Google TV o sul tuo telefonino cercando nello store Complitaly Plus. Seguici sui canali social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok oppure sul nostro sito www.complitaly.uk Regalaci un like, seguici e contribuisci a far crescere la tua televisione italiana nel Regno Unito. Complitaly TV, il tuo canale, sempre.